Assessore Catania, lei rappresenta una carica istituzionale non indifferente, ma si è mai chiesto che bisogna poi porsi un limite e dunque non offendere soprattutto i consiglieri comunali? Ma io non ho mai offeso i consiglieri comunali, almeno nei miei scritti è proprio difficile trovare un'offesa ai consiglieri comunali. Se offesa secondo l'interpretazione di alcuni consiglieri comunali possa esserci stata, chiedo scusa perché comunque ritengo che il consiglio comunale in quanto istituzione importante della nostra città nel contesto democratico, nella guida dei comuni, costituisce uno degli organi principali insieme alla giunta per amministrare la città. Però lei si deve accercare, già era accaduto con l'architetto Tuccio, adesso anche con i consiglieri comunali? Tuccio ha sbendito che ha avuto un'aggressione fisica, ha parlato di alterco verbale, da qui a parlare di aggressione nel caso di Tuccio non vi è restato, come in questo caso non c'è stata nessuna offesa ai consiglieri comunali. Però già un alterco verbale è preoccupante se arriva da un amministratore comunale? Beh, un alterco verbale uno può avere una discussione, io ho un carattere che può essere interpretato come forte e quando mi interpongo con le persone pensano che abbiano la mia stessa tipo di tembra, quindi magari sbaglio in questo a ripenere che tutti hanno il mio tipo stesso di carattere e magari quando vado nel sottolineare alcune cose lo faccio in maniera dura, ma da qui a parlare di aggressione ci sono diversi tipi di sensibilità, come disse allora l'architetto Tuccio, e vuol dire che io ho una soglia di sensibilità un po' più alta rispetto a lui. Tutto questo potrebbe comportare un suo allontanamento da parte della sindaco messinese? Se il rapporto di fiducia viene a mancare è normale che viene a mancare anche il rapporto con l'assessore, noi come assessori siamo sempre in bilico, non abbiamo che avere paura del nostro futuro. Lei diceva che tutti gli assessori sono in bilico, ma quello che è più in bilico è lei, perché è lei che se le va a cercare. Ma non è proprio così insomma. Perché non è proprio così? Lei ha la tastiera facile. Non capisco perché tutti gli altri possono scrivere, io non abbia la stessa libertà di poterlo fare, tra l'altro lo faccio da molti anni, non sono stato mai querelato, diversamente da alcuni professionisti che invece le querele li beccano ogni giorno. Dunque si chiede scusa ai consiglieri comunali? Senza dubbio, chiedo scusa se ho urtato la loro sensibilità, anche se comunque nel posto non c'era nessun riferimento ai consiglieri comunali e non li avevo etichettato come Lecchini o come null'altro. Non lo farà più? Assolutamente, se lo farò, lo farò in maniera diversa.